Si è guadagnata lo stato di festa provinciale del PD, la festa dell'unità di Camucia. Con un programma ricco di appuntamenti e dibattiti, da sabato 22 a domenica 30 agosto, la festa è pronta ad animare la Val di Chiana e l'intera provincia di Arezzo. Una festa storicamente importante e quest'anno si arricchisce anche di eventi dal punto di vista politico significativi. Avremo la presenza del ministro del Guardia Sicili Andrea Orlando il 28 di agosto alle ore 21, la senatrice Puppato il 29 e anche altre iniziative, una con i neoeletti in regione, De Robertis, Vadi e l'assessore Ceccarelli sui temi del sviluppo della regione toscana nei prossimi 5 anni. Il rilancio del quotidiano all'unità che è tornato in edicola alla presenza del vice direttore Bradimiro Fulletti appunto ci spiegherà la nuova edizione e il rilancio del quotidiano a livello nazionale. Per parlare anche di temi locali con il direttore del lato e il presidente della società 6 per affrontare il tema della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti che in tante realtà Cortona in primis sta sviluppando e sperimentando la raccolta differenziata porta a porta con importanti risultati. Queste iniziative partiranno dalle ore 9 in poi sul palco centrale a cui seguiranno poi le orchestre, seguirà il ballo, seguirà gli spettacoli, seguiranno voglio dire tutta la serie di iniziative. Numerosi saranno gli stand dedicati ai giovani, dedicati all'espazio culturale, dedicato anche a chi vorrà venire a giocare a briscola, ai bambini con i gonfiabili e voglio ricordare anche la buona tavola che caratterizza da sempre la festa dell'unità di Camuscia. Grazie.